buonasera a tutti grazie per essere ancora qui con noi per questo enesimo video questo video ha lo scopo di illustrarvi le palline che si usano per giocare con il cane abbiamo due tipologie principali di palline in commercio la classica è la pallina da tennis e l'altra è una pallina di gomma dura come vedete è più piccola rispetto all'altra che avevo in mano ora la pallina da tennis è una pallina alla portata di tutti sia in termini di costi che in termini di uso comune la consiglio di usarla nel più breve tempo possibile con il cane perché il materiale spugnoso se viene ingerito può causare dei danni quindi direi che il tempo giusto di gioco e di lavoro con una pallina di questo genere è di 20 30 secondi al massimo l'altra pallina invece è più funzionale sia il gioco quotidiano che l'addestramento di tutti i giorni è di materiale duro quindi resistente al morso l'unica differenza che c'è la grande differenza che c'è rispetto alla pallina da tennis è la dimensione di queste palline in commercio esistono diverse dimensioni ed ognuna è adatta alla taglia del cane più è grande la pallina più va usata con cani di grossa taglia grazie per averci seguito ancora questa sera ricordate di seguirci sul nostro sito www.fintidog.it e sulla nostra pagina www.fintidog.educazione cinofila su facebook www.fintidog.educazione cinofila su instagram